Sono contento che il mio gol ha permesso di sbloccarla e magari di metterla un po' in discesa. Siamo stati bravi perché oltre a fare una buona partita, una buona prestazione, mi è piaciuto anche lo spirito che abbiamo avuto alla fine, in cui nelle difficoltà siamo stati compatti e abbiamo cercato di subire il meno possibile. Io sono tanto contento per la prestazione della squadra, ma anche per l'atteggiamento che abbiamo avuto. Dobbiamo ritrovarci un pochino da questo punto di vista e dobbiamo continuare su questa strada. È una vittoria che abbiamo fortemente voluto e quindi deve essere un punto di partenza per poter ricominciare un cammino che secondo me dobbiamo avere. Niente, quindi dobbiamo proseguire, sappiamo che dobbiamo migliorare tanto, abbiamo passato un periodo un po' altalenante e con più bassi che alti e quindi dobbiamo cercare di ritrovare l'entusiasmo che avevamo all'inizio per poter continuare a vincere. Adesso abbiamo delle partite non difficili ma difficilissime contro grandi squadre che sono sopra di noi in classifica e quindi dobbiamo dimostrare di esserci ritrovati e dobbiamo continuare appunto su questa modalità di gioco, su questa voglia di vincere. E niente, insomma, mi auguro che sia, come ho detto prima, uno sblocco, un punto di partenza perché dobbiamo tornare a essere quelli che siamo stati inizio campionato. Grazie. Grazie. Grazie.